La secrezione della pineale, nella terminologia yogica, è chiamata amuruta, perché una volta che inizia la sua secrezione, tutto in te diventa dolce e bello. Non è la sessualità che la limita. È l'eccessiva identificazione con la fisicità a limitarla. Se la ingigantisci troppo, diventerai perverso nella testa. Se cerchi di eliminarla, diventerai ancora più perverso nella tua mente. Un uomo di 92 anni andò dal suo medico, per un controllo medico completo. Il medico lo esaminò e disse, «Ehi, ragazzo mio, per la tua età stai alla grande, è tutto a posto». Ma l'uomo chiese, «Ma, dottore, è la mia vita sessuale?» Allora il dottore domandò, «Pensarci oppure sognarla?» Più cerchi di non pensare a qualcosa, più ci penserai. Questa è la natura della mente. Quindi ci sono molte ragioni per cui una persona si dedica al sesso. Per alcuni è solo piacere. Per altri è un modo per costruire questo legame e senso di compagnia. Altrimenti, le persone sentono che si allontanano l'una dall'altra. Magari stanno bene, ma tante persone sono convinte nella loro mente che se non sono coinvolte sessualmente, in realtà si stanno allontanando. Non è vero. Puoi essere molto vicino a qualcuno senza essere affatto coinvolto fisicamente. Non è vero. Ma le società si stanno convincendo, specialmente in questa parte del mondo. Le persone sono alquanto convinte. Se non c'è sessualità, non hai davvero una relazione. In effetti, la parola relazione mi c'è voluto del tempo per capire che qui, se dici una relazione, si suppone che tu capisca che è una relazione sessuale. Nient'altro è una relazione. Posso avere una relazione molto forte con te e non preoccuparmi del tuo corpo, non è vero. Potrai non essere attratto dal tuo corpo in alcun modo, ma posso avere una relazione molto potente con te. Ma tutte queste possibilità sono completamente ignorate. Una relazione significa devi essere in qualche modo coinvolto fisicamente. Uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, come ti pare. Essenzialmente è basata sul corpo. Che tipo di corpo è una scelta individuale? Ma essenzialmente è basata sul corpo. Questo è successo perché, da qualche parte, la nostra identificazione con il corpo è andata oltre i livelli normali di identità. È un'identificazione eccessiva con il corpo. Ecco perché le relazioni basate sul corpo sono diventate il fulcro della società. Chi è troppo identificato col proprio corpo fisico è naturalmente guidato dal sesso. Perché è la cosa più elevata che conosce. Ci sono modi con cui possiamo farti trovare qualcosa di molto più grande di questo. Una volta che assapori qualcosa di meglio, non devo dirti rinuncia a questo o a quello. Comunque cadrà, non è così. Ci sono modi per fare una certa sadhana che è più intensa della sessualità, che è più estatica della sessualità. Ad un livello, se lo osservi, tutte le dimensioni dello yoga, in un modo o nell'altro, cercano in definitiva di attivare la pineale. Perché una volta che inizia la sua secrezione, tutto in te diventa dolce e bello. Crea tutto un piacere interiore che fa apparire tutti i piaceri esteriori roba da bambini dell'asilo. È per questo che gli yogi stanno semplicemente seduti con gli occhi chiusi, non perché siano contro il piacere. Sono contro i piaceri piccoli, tutto qui. Quindi Shambhavi, una cosa che avviene è che stimola la secrezione pineale alla grande, lasciandoti immerso in un certo livello di dolcezza per tutto il giorno. Ti lascia semplicemente in un certo stato di estasi e beatitudine, perché la ghiandola pineale è attiva. Questo è un aspetto della tua fisiologia che è molto vicino alla tua consapevolezza. Il resto della fisiologia riguarda la sopravvivenza, ma la ghiandola pineale è un aspetto della tua fisiologia che è molto, molto vicino a trascendere il fisico. Nella tradizione yogica, questa dolcezza è chiamata amruta, o ambrosia o elisir di vita. Una goccia si arriva nel sistema, all'improvviso l'intero sistema semplicemente si calma. Tutto il sistema è lubrificato e funziona a proprio agio. La disperazione nel sistema non c'è più. La disperazione nella mente non c'è più. Quindi, ambrosia significa che hai trovato il tuo piacere. Se sei estremamente gioioso dentro di te, hai trovato l'amruta dentro di te. Sei in uno stato estremo di piacevolezza. Ora, stare con le persone non è più questione di spremere piacere da esse. Stare con le persone è solo... solo stare con loro. Solo allora sei davvero capace di amare, altrimenti è solo un trucco alla apriti sesamo. Ti amo significa che tu ci creda o no. In quel momento fanno in modo di crederti. Perché anche loro hanno bisogno di qualcosa. Anche tu hai bisogno di qualcosa. Non è vero? È come Alibaba ai 40... Apriti sesamo significa che si apre. È proprio così. Ti amo significa che molte cose si aprono. Ora, facendo questo, non dico che sia giusto o sbagliato. Questo è il modo in cui le persone conducono la propria vita. Tutto qui. Ma facendo questo, la vera possibilità di conoscere un intenso senso di amore dentro di te è perduta. Sei qui che cerchi costantemente cosa posso ottenere da questa persona, cosa posso ottenere da quella persona. È una truffa. Viene chiamata una storia d'amore. Ma è una truffa. Ma se sei estremamente statico da solo, quando sei con delle persone, si tratta di condividere la tua estasi. È questione, se loro non ne sono toccate, di toccarle in qualche modo con essa, piuttosto che vedere cosa puoi esprimere da esse. Tutte le fondamenta della tua vita cambieranno. Siano, nel senso che non è la sessualità a limitarla. È l'eccessiva identificazione con la fisicità e non è la sessualità in sé che diventa la barriera, ma è l'attaccamento che crea la fisicità che decisamente diventa la barriera. Questa domanda proviene da una certa quantità di cose qui e là. Pettegolezzi che hai sentito su come potresti assimilare il tuo stesso seme e portarlo su alla tua possibilità più elevata. Sì, è vero. allo stesso tempo non è con l'astinenza che si fa questo, è perché interiorizzi le tue energie che lo fai. Non è semplicemente che qualcuno si astiene dal sesso e all'improvviso le sue energie sono tutte organizzate e vanno in su. Non è vero. Se le tue energie si organizzano e iniziano a salire, il bisogno della sessualità potrebbe evaporare per te. Ma non ti lascia incapace. Non ti lascia impotente. Ma il bisogno se n'è andato. Semplicemente non è più una cosa compulsiva. E non è solo questo. Tutta la compulsività sparisce. Essenzialmente, la maggior parte della sessualità che accade sul pianeta accade a causa di una certa compulsività. Non è vero? È una spinta compulsiva. Quando diventi consapevole, quando tutta la compulsività sparisce, anche questo sparisce. è solo che siccome le persone sono così orientate al corpo, pensano sempre a spiritualità contro sessualità, non sono connesse. Non sono connesse. Una appartiene al corpo, l'altra a una dimensione diversa. È semplicemente perché le persone sono così, siccome le religioni del mondo, le scuole morali ed etiche hanno sempre parlato contro di esso, è diventato un tale problema nella mente delle persone. Pensano che l'unico modo di conoscere qualcosa che stia oltre sia che tu debba starci lontano, perché da qualche parte non sei in grado di accettare la semplice biologia di un essere umano, il che è una tragedia, che tu non possa accettare la semplice biologia. o devi celebrarla o devi buttarla nello scarico. Entrambe non sono necessarie. Puoi vederla per la limitazione che è e per la possibilità che è. quindi, se a causa dell'impurità del sesso la tua spiritualità verrà disturbata, voglio che tu sappia che la tua stessa nascita è impura. quando vieni da una nascita così impura, dov'è la possibilità per te? Non c'è possibilità per te. Solo se sei caduto da qualche altra parte, se ti ha portato la cicogna, c'è qualche possibilità che tu diventi spirituale. se tua madre ha avuto un parto normale, non hai alcuna possibilità. Una bambina di sei anni un giorno tornò a casa da scuola e chiese, mamma, come sono nata? La madre era imbarazzata. Rispose, ti ha portato una cicogna. Lei disse ok e lo appuntò. Mamma, tu come sei nata? Una cicogna ha portato anche me. Mamma, come è nata nonna? Anche lei è stata portata da una cicogna. Allora la bambina si fece seria, si sedette e iniziò a scrivere qualcosa per i suoi compiti. Poi la madre non si sentiva a propriaggio, finì di cucinare e la bambina aveva finito i compiti e lasciato il quaderno lì. Andò a leggere. Il compito era sull'albero genealogico. La bambina aveva scritto, per tre generazioni nella mia famiglia, nessuno ha avuto un parto naturale. Quindi, a causa di idee assurde, o esageriamo qualcosa o cerchiamo di sminuirlo senza motivo. Ha un certo ruolo nella tua vita. Se l'ingigantisci troppo, diventerai perverso nella tua testa. Se cerchi di eliminarlo, diventerai ancora più perverso nella tua mente. Dopotutto, ora sto parlando, questo è un tipo di energia. Mi stai guardando, questo è un tipo di energia. Mi stai ascoltando, questo è un tipo di energia. Queste sono espressioni diverse della stessa energia vitale, non è vero? Ora, anche la sessualità è un'altra espressione della stessa energia. Ora, uno deve decidere quanta della sua energia e in quale direzione vuole mandarla. Perché, dopo tutto, sei una quantità limitata di energia. Non è vero? Vedi, è proprio come se hai una rendita. Diciamo che hai 5.000 euro al mese. quanto per l'affitto, quanto per mangiare, quanto per l'istruzione, quanto per il divertimento, quanto per le vacanze, la suddividi, non è vero? Domattina prendi lo stipendio, la sera esci e lo sperperi tutto. Ora, il mese prossimo saranno guai, non è vero? Certo, hai una carta di credito, ma... ogni cosa nella tua vita se gestisci la tua vita in modo sensato, ogni cosa nella tua vita è suddivisa a seconda della tua comprensione, delle tue necessità e della tua capacità. Non è così? Sì? I tuoi soldi, il tempo, l'energia, non è forse tutto ripartito come ti va di organizzarlo? Anche questa è la stessa cosa. Quanto di questo? anzitutto, ne hai bisogno? O lo stai facendo perché socialmente vieni convinto? Se c'è un bisogno, se ti chiedo di fermarlo, diventerai perverso perché avverrà tutto nella tua testa. Se qualcuno ti dice devi farlo, se non lo fai, non sei normale, arriverà un altro tipo di perversione. Entrambe non sono necessarie. Dopotutto, non stai cercando un uomo o una donna, stai cercando un certo livello di piacevolezza. Quindi, una volta che fai esperienza di un certo livello di piacevolezza, non ti piacerebbe approfondirlo? Perché qualsiasi piacevolezza sia avvenuta, forse hai usato l'altra persona, ma la piacevolezza è avvenuta dentro di te, giusto? Quindi, supponi, in ogni caso la piacevolezza avviene dentro di te, l'altra persona è solo la chiave per aprire questo. Non ti piacerebbe avere la chiave nelle tue mani? Sì? Che se ti siedi così, sei acceso alla grande. Non hai bisogno di nessuno. No. Vedi, qualsiasi cosa nella tua vita, che sia per piacere, soldi, amore, questo, quello, non importa cosa. Per qualunque cosa, nel momento in cui diventi dipendente da un'altra persona, nessuno su questo pianeta è davvero affidabile. Non è vero. Continuo a sentire queste lamentele ovunque. Alcuni, generalmente le donne, si lamentano in continuazione che i loro mariti sono eccessivamente fisici. Alcune donne si lamentano costantemente non mi tocca neanche con un dito. Qualsiasi cosa succeda è un problema, perché non accadrà mai esattamente come vuoi. Finché un'altra persona è coinvolta, niente succederà mai al 100% nel modo in cui vuoi. Non è così? Sì o no? Non succederà mai. Non importa se ti sposi con un Dio. Comunque non succederà. Finché il tuo modo di essere, il tuo senso del piacere e della gioia dipende da un'altra persona, avrai sempre una lamentela. Non importa quanto meravigliosa sia l'altra persona. Quindi, in questo contesto, le persone possono aver parlato di celibato perché hanno detto prenditi del tempo libero. Perché, per estrarre piacere da qualcuno, devi fare innumerevoli giochetti. non succede semplicemente. Questo si chiama fare la corte. Una volta che vai in tribunale, arriverà il giorno del giudizio. Ci vuole un'enorme quantità di tempo, sforzo, energia e ogni tipo di altre cose. Frustrazioni, gelosia, problemi, tutte le cose connesse. Quindi qualcuno ha detto prendi del tempo libero da queste cose e vedi se questo può essere generato internamente. Allora, stare con le persone diventerà più per amore che per bisogno. Il che è un modo decisamente migliore di essere con le persone, non è vero? È decisamente un modo migliore per onorare un altro essere umano, non è così? Dai un po' più di attenzione a questo invece di prestare attenzione a quello e quello e quell'altro. Dai un po' più di attenzione a questo. Produrrà molto più piacere di quanto chiunque altro ne possa produrre per te. a questo. Di quanto è un po' più di attenzione a questo di attenzione a questo e che a questo è un po' più di attenzione a questo